E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Dopo gli ultimi risultati a effetto, la Lazio punta sulla continuità. All'Olimpico arriva il Cagliari, squadra in cerca di riscatto dopo l'esonero di Rastelli e l'arrivo in panchina di Diego Lopez. I piani dei sardi però si complicano subito. Fa immobile! 1-0 a Lazio e già avanti dopo 7 minuti! Ancora l'Ulice, arriva ora, pallone sul secondo palo per Marushit che lavora di sponda per Immobile! 13 gol in 9 partite. Ciro Immobile si conferma il bomber più prolifico in Europa e mette in discesa il match. La Lazio cala il tris con la specialità della casa. Decimo gol su pallina attiva. Nessuno come Bianco Celesti in questo campionato. La Lazio si abbatte sul Cagliari e resta agganciata al terzo posto. I meccanismi della squadra di Simone Inzaghi continuano a funzionare alla perfezione. Sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute. Ho chiesto ai ragazzi di venire qui a giocare, giocare e guardare la porta davanti. E penso che questo sia stata una cosa positiva perché siamo arrivati molte volte in porta. Secondo me la Lazio ha meritato di vincere. Per me il risultato è esagerato. Il calcio è questo. Siamo in un buon momento ma dobbiamo continuare. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare in questo modo. Ma sono fiducioso perché so i ragazzi che alleno. Adesso dovremo essere bravi a mettere alle spalle questa settimana. È normale che veniamo da sei vittorie consecutive. Però l'insidia è dietro l'angolo.